Io cedo molto per riferire la parola alla Presidente Caterina Muffino, Presidente della Sezione 13, ma io dico ancora prima di sede, una rete, una sezione famiglia, una sezione di frontiere e di battaglia, a noi molto cara. Grazie. Buonasera, grazie. Grazie a Massimo e ad Alessia, grazie a Massimo per aver pensato a me. E devo confessarvi che io non avevo assolutamente capito che questa montagna non è una sorta di piccoli amareggi. E quando l'ho scoperto, l'ho scoperto venerdì, avendo già assunto questo impegno delizioso con Massimo, sono sull'aereo per Bruxelles, accanto a me è seduto un giovane ingegnere che è sposato con una signora di origine di Montagano, che vive in Belgio da sempre, anzi è nata in Belgio, perché Montagano, come mi ha spiegato questo ingegnere, è uno di quei paesi del Molise che ha vissuto un'esperienza di emigrazione, non solo a Roma, dove praticamente la metà della popolazione è monisana, questa è una cosa che ho scoperto qualche anno fa, ma tristemente verso il settore minerario del Belgio dove andarono molti di Montaganesi. Questa signora appartiene a una famiglia che si chiama Iacobino ed è una giovane donna che vive a Bruxelles, sposata con questo signore, il quale mi ha raccontato che ogni weekend la raggiunge perché ha avuto una bambina e lui da Milano va a Bruxelles e mi ha detto signora, lei non può credere l'importanza che questi cittadini montaganesi assegnano a loro rientro annuale nel paese, da tutto il mondo, cioè c'è gente che vive in Canada, che vive in Francia, che vive in Belgio e poi sì, io quando ho detto la parola Montagno, l'ho buttata durante così, c'è un paese contatto, e lui mi ha buttato, ma lei come lo sa? È stata veramente una cosa da vivere, veramente da vivere. Questo perché mi ha fatto molto sorridere? Mi ha fatto molto sorridere perché evidentemente Massimo e prima di lui la famiglia di Massimo hanno trovato una sorta di luogo del cuore, luogo dove si vivono le esperienze e i sentimenti e a questo punto non posso che ricordare una delle cose che mi ha colpito maggiormente, un onore come quello che ha avuto tuo padre, di essere il giudice tutelare di un giovane che poi è diventato un collega, io purtroppo come giudice tutelare non lo avrò mai. Vero mi consolo dicendo, erano altri tempi, il mondo era diverso, però quando penso a questo giovane pretore che nella sua funzione istituzionale ha allevato un giurispedito e lo ha consegnato alla magistratura, mi emoziono profondamente perché credo che più giudice tutelare di così si muove, insomma, è stato, questo tuo papà è stato la massima istituzione di più giudice tutelare. E questo signore, questo papà di Massimo, attraverso questo racconto bellissimo, perché non è vero che la Marcord, come ci diceva Ciluzzi, la Marcord si fa quando c'è la consapevolezza e si può fare ed è gradevole ed è corto e coglie al cuore di legge quando c'è la consapevolezza naturale delle origini e della cultura, che in questo caso è cultura familiare. e questo mio collega pretore di Montagano, io lo seguo in quella stanza dove lui si rifugiava la sera quando aveva finito di lavorare e al buio, questo è un pensiero che veramente mi ha entusiasmato, e al buio si metteva a suonare e questo ragazzino entrava in salotto, come diceva lui, scivolava in silenzio, che è una persona, e stare lì a sentire delle musiche, delle notte che lo portavano in un altro mondo e soprattutto il pezzo di Ciluzzi, che lo facesse molto sognare, effettivamente è un autore che dà queste sonorità molto porti e molto moderne, molto moderne, molto emozionante. Questo racconto di Massimo negli appunti di Geografia Interiore, come ci diceva anche il professore, secondo me si dipama su due traiettorie fondamentali. Uno che è quello del racconto di questo paese, questo paese con i ritmi lenti dei paesi dove le persone si conoscono, dove le persone si parlano, dove le persone intersecano le proprie vite l'una con l'altra, e poi questo è l'exio dottoralis che lui ci ha portato, quella su Beccaria, quella sulla cibernetica e sull'intelligenza artificiale, estremamente interessante, e altre forme di saggistica che, come diceva il professore, brutamente sono intersecate ai racconti di questo bambino che andava a contarlo. Allora io dico, quante volte oggi nella nostra vita abbiamo l'opportunità di intersecare la scienza e la formazione con i sentimenti, molto raramente, perciò sono grata a Massimo di questo scritto. Anch'io, come Alessia, avevo sbirciato su Facebook dove seguo Massimo per i suoi regali di musica della morte, che effettivamente da grande esperto di musica ci regala questi consigli, queste strade sulle quali addentrarci. Avevo sbirciato e avevo detto, ah però, ma chissà, sarà lontanissimo questo posto dove si fa questa presentazione, sarebbe carino, e dove questo mio collega, che sono il capo al curato di campagna, perché lui è andato a scegliere, come giustamente il Presidente Cinizzi ci faceva notare prima, è andato a scegliere degli uffici dove esercitare l'attività jurisdizionale lontani dai fasti delle grandi città, dove si muovevano questi grandi centri di potere che negli anni 70, 80, 90 hanno purtroppo dato anche dei risvolti negativi, oltre al lavoro positivo che hanno fatto. Invece lui si è andato a cercare questi luoghi di provincia, questi posti dove andare a vivere il territorio, perché è il vissuto del territorio che io trovo qua. Io in questo libro, Massimo, io trovo il territorio del Molise, trovo la Rino, io trovo questi luoghi dove purtroppo certe forme di modernismo e di modernità non sono ancora arrivate, ma è questa la loro fortuna, perché sono riusciti a salvaguardare quei momenti di relazioni tra le persone, perché quando, perché quando la discussione e la lotta si fa tra le paste della pasticceria e una piuttosto che quelle dell'altra, o la famosa coppa che non c'è più, la coppa che è un gelato, ovviamente, la coppa figlia che è un gelato migliore del mondo, vuol dire che le persone si sono ritrovate intorno ad un sentimento di umanità che le ha nutrite e quindi di questo al mio collega e al mio amico sono grata. Grazie.